Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natasha alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della chiesa metropolitana di Pescara, Penne. Nuovi scenari per l'accesso al credito. Credit Fidi diventa infatti Confidi, autorizzato dal fondo di garanzia. Lo scorso 15 maggio il Consiglio di Gestione del Fondo Centrale di Garanzia, gestito da Banca del Mezzogiorno, Mediocredito Centrale S.p.A., ha accolto con favore la relativa richiesta alla luce della parte 14 prevista dalle disposizioni operative, approvata con decreto dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con quello delle economie e delle finanze del 12 febbraio 2019. La riforma del Fondo Centrale di Garanzia, strumento essenziale di politica economica a favore delle micro, piccole e medie imprese, entrata in vigore il 15 marzo 2019 con nuove disposizioni operative, introduce un nuovo modello di rating interno, cioè di classificazione interna, con la ridefinizione delle modalità di ammissione alla garanzia del fondo, con un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari. L'inserimento tra i soggetti accreditati, oltre a confermare l'adeguatezza patrimoniale e l'efficienza nella gestione del credito da parte di Credit Fidi, rappresenta un riconoscimento importante per il Confidi e per le oltre 2.900 imprese socie. Lo fa sapere la Cegna. La cronaca entrò in ospedale a Chieti per sottoporsi all'emodialisi, ma proprio durante la seduta venne colpita da fibrillazione con conseguente arresto cardiaco. Un medico le praticò il massaggio cardiaco e la defibrillazione riattivando il battito del cuore, ma non lo stato di coscienza. Sottoposta a TAC, la donna, che non aveva mai avuto problemi cardiaci, venne trasferita in coma nel reparto di reanimazione dell'ospedale di Lanciano perché a Chieti non c'erano posti letto disponibili. Uscì dal coma inesperatamente dopo 17 giorni e da allora fu possibile interagire con lei, ma le sue condizioni cliniche senza una precisa patologia peggiorarono fino alla morte dopo 34 giorni di ricovero. Per il decesso della donna residente a Chieti è ora stata aperta un'inchiesta in seguito all'esposto presentato dal figlio. Il giudice per le indagini preliminari della procura del Tribunale di Chieti ha ieri aperto un'inchiesta in seguito proprio all'esposto presentato dal figlio con l'incidente probatorio. ha quindi affidato la perizia per accertare se il decesso sia causalmente riconducibile a responsabilità di uno o più sanitari che hanno avuto in cura la donna. Sono indagati, l'avviso di garanzia è atto dovuto per permettere la nomina di un consulente, 22 medici dell'ospedale di Chieti e di Lanciano. L'ipotesi di reato per cui si procede è la responsabilità colposa, cioè involontaria, per morte o lesioni personali in ambito sanitario. La perizia è stata affidata a periti iscritti nell'albo di un tribunale non ricompreso nel distretto del Tribunale di Chieti. Ancora cronaca, uno studente di 16 anni è rimasto ferito ieri mattina poco dopo le 9.30 a Guardia Grele mentre stava facendo attività sportiva nella palestra della scuola che frequenta in Via Grele. Dopo le prime cure il giovane è stato trasferito in elicottero in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Pescara. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto il ragazzo, mentre si stava allenando, ha improvvisamente battuto la testa dopo uno scontro, prontamente soccorso dai presenti e poi dai sanitari del 118. Dopo le prime cure è stato trasferito in elicottero al codice rosso all'ospedale pescarese dove gli è stato diagnosticato un trauma cranico con motivo il minore era cosciente e sono in corso certamente per ricostruire la vicenda. La chiusura del mercato di Via dei Bastioni a Pescara rappresenta un notevole danno per gli operatori ma anche una grave mancanza di attenzione nei confronti di una struttura per la quale più volte negli ultimi anni abbiamo chiesto una riqualificazione e il commento della ConfCommercio in una nota molto polemica. Troppe volte, dice la stessa ConfCommercio, le promesse fatte si sono infrante sulla mancanza di risorse economiche sufficienti per la completa ristrutturazione del mercato, salvo poi assistere alla scelta scellerata, così dice la ConfCommercio, di destinare circa 250.000 euro per la realizzazione del mercatino etnico osteggiato da operatori commerciali e cittadini. La nostra associazione, dice ancora ConfCommercio, chiede che a questo punto il comune di Pescara agisca con procedure di massima urgenza ricorrendo a risorse di bilancio straordinarie per risolvere la situazione in tempi brevi. Consegnata ieri a Montesilvano la scuola d'infanzia colonnetta alla preside Roberta Martorella, scusate, agli insegnanti, ai genitori e soprattutto ai bambini, la conclusione dei lavori è stata celebrata con una semplice ma gioiosa cerimonia in cui sono ritrovate tutte le persone interessate. I piccoli dunque dal prossimo anno scolastico potranno lasciare i locali di via Sagno per frequentare una struttura moderna, definita coloratissima, ad alto risparmio energetico, sicurissima e con un bel giardino esterno. La scuola, che si estende su circa 280 metri quadri calpe stabili, ospita tre sezioni e un'aula per le attività speciali nel lato sud. Previsti anche locali deposito, lavanderia, un bagno e un secondo dedicato e diversamente abili. Realizzata anche un'aula per docenti con servizi igienici e ripostiglio, una sala mensa e una per lo sporzionamento del cibo con spogliatoio e bagnetto. Oggi è venerdì 24 maggio e la direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sociodatale al nostro direttore Don Remo Chioditti e a Don Paolo Curioni e buon anniversario di ordinazione diaconale a Sergio Balducci. E siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo molto nuvoloso fino alle ore centrali, sereno nel primo pomeriggio, nuvoloso nel resto del pomeriggio, poco nuvoloso nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 17 a 22 gradi e 20 deboli. E nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà mattino, poco nuvoloso in tarda mattinate nelle ore centrali, pioggia nel pomeriggio, cielo nuvoloso nelle prime ore della sera, è coperto in tarda serata con temperature da 16 a 21 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto quasi calmo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in regia e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie e risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.